Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica, 14 febbraio 2010, è proprio il giorno degli innamorati. E il giorno degli innamorati non poteva cadere in un giorno migliore di questo che era domenica, che si è di solito liberi dalle occupazioni lavorative e ci si può dedicare all'amore per l'intera giornata. Comunque vediamo un po' che significa questo titolo corruttore di giovani perché siamo alle solite, a volte mi sembra che ci sia più libertà nella vita reale che nella vita virtuale, che non nella fattispecie, giuridica, concreta su Youtube o comunque su tanti altri siti del web perché recentemente, ieri o l'altro ieri, sul mio profilo è apparso un commento di un personaggio che ha un nickname che ogni volta che io lo nomino faccio fatica a nominarlo perché mi vergogno, mi vergogno perché mi sembra persino di declassare la qualità del video usando una tale parola. Beh, il nickname è Bombolone, non so se 101 o 102, non mi dico, Bombolone, che è una vecchia conoscenza. Più volte mi ha detto che quando sente me, sente parlare me, lui sente anche l'odore di zolfo e io gli dedicai pure a diversi filmati. Un filmato era intitolato Odor di zolfo, cioè lui mi invita sempre a convertirmi perché se no finirò l'inferno. E' stato proprio Bombolone che mi ha indotto a fare delle ricerche sulle religioni, su quelle che l'inferno ce l'hanno, quelle che l'inferno non ce l'hanno. E da questo punto di vista gli sono anche grato. Se stava zitto era meglio, era meglio anche per lui. E allora in questo commento mi ha detto che io sono un, mi pare che abbia usato la frase, la locuzione, corruttore di giovani. Andate a vederlo, il commento di Bombolone 101, lo trovate? Commenti sul profilo, se non sarà la pagina 1, se non sarà la pagina 2, se non sarà la pagina 3, se non sarà la pagina 4. Io gli ho risposto, no? Gli ho risposto. Gli dice che io sono un corruttore di giovani perché, non so, li allontano da Dio oppure li... Ah, non parlo bene della famiglia. Non parlo bene della famiglia. Non parlo bene della famiglia. Allora, a parte il fatto, caro Bombolone, che allora, corruttore di giovani, dovresti dire che, che so, Voltaire, Diderot, Immanuel Kant, uh, ce ne sono. Allora, sia per questo che hanno detto che Dio, insomma, non esiste. Ce ne sono, ce ne sono tanti. Nietzsche, anche... Lasciamo stare Nietzsche, che non gode di tanta buona fama, ma per me gode di buona fama, ma per tanti Nietzsche è il diavolo. Ma Kant non è il diavolo, Kant. Eppure, lui ha detto che Dio non... L'esistenza di Dio non la si può dimostrare. Ha detto così, e insomma, eccetera, Voltaire, Diderot, ma tanti altri, tanti altri. Io non ho mai sentito dire che Voltaire e Diderot sono stati corruttori di giovani. Ma andiamo un po' al cuore del problema. A parte il fatto che io nei miei circa 40 anni di vita reale nella scuola, come insegnante e poi come presidi di liceo, non ho mai sentito nessuno dire che io sono un corruttore di giovani, e sì che come docente di filosofia e storia nei licei, e come presidi di licei, ero sempre lo stesso Serafino Massoni che sto adesso su web, capito? Anche allora facevo gli stessi discorsi. Mi ricordo che una volta quando ero insegnante di filosofia e storia nei licei, e si parlava appunto alla patristica, si parlava di Dio, se esiste o non esiste, e io dicevo, vai, è molto più facile che Dio non esista. Allora un giovane si alzò in piedi e mi disse, ma professore, ma se Dio non esiste, allora possiamo fare tutto quello che ci pare. Mi pare che Dostoevsky disse qualcosa, e dissi, se Dio non esiste tutto è possibile. Io gli dissi, ah sì, gli dissi, tu ragazzo dici che se Dio non esiste possiamo fare quello che vogliamo? Va bene. Allora io tirai fuori dalla borsa, tirai fuori il portafoglio, e lo vedi sulla cattedra, e dissi al ragazzo, senti ragazzo, e poiché tu dici che se Dio non esiste tutto è possibile, allora vieni qua, vieni qua, e portami via il portafoglio, tanto tutto è possibile se Dio non esiste. Ed egli, proprio come nella poesia, mi illumino d'immenso, i suoi occhi si illuminarono d'immenso, e all'improvviso capì che, anche se Dio non esisteva, lui non poteva venire lì a portarmi via il portafoglio, perché se ci provava riceveva una grandissima mazzata sulla testa. Capito? Ma cari, già, esiste già di tutto, anche se Dio esiste, è già possibile tutto, perché se voi vedete le infamie di cui si parla sulle cronache giornalistiche, capì, capì che era un ragazzo di 17-18 anni, queste cose le avrebbe già dovute capire prima che io gli facessi questo esempio, però mi illumino d'immenso, capì, restò come folgorato, come San Paolo sulla strada di Damasco. Allora, caro Bombolone, ma io, Bombolone, ho scelto uno, ma a quale Dio mi devo convertire? A quale Dio mi devo convertire, caro? Al Dio cristiano? Al Dio islamico? Al Dio ebraico? Lo sai bene, è vero che i due grandi dei, quello cristiano e quello islamico, sono figli del Dio ebraico, e il papà è il Dio ebraico. Il Dio islamico e il Dio cristiano sono i figli, i figli del Dio ebraico, e il grande padre è il Dio ebraico. Ma a quale religione tu mi consigli di convertirmi? Non vorrei rispondermi che per il fatto che io sono nato in un paese cattolico debbo ritornare al Dio cattolico, no? Non esiste forse il libro arbitrico? Il libro arbitrico, no? Lo dici tu, Bombolone, che Dio ci ha lasciati liberi di scegliere bene il male. Lo dite voi. Allora se io sono libero di scegliere, perché non dovrei scegliere un altro Dio cristiano? Per esempio il Dio cristiano dei galvinisti o il Dio cristiano dei luterani o il Dio cristiano greco ortodosso o al limite il Dio degli islamici o ancora il Dio degli ebrei. Ma a quale Dio mi devo convertire? Bombolone 101. Vediamo. C'è la libera circolazione in Europa, c'è la libera circolazione adesso le barriere sono crollate, no? E il fatto che io sono nato in Italia non significa mica che per forza che io debba aderire al Dio dei cattolici, no? Tu me lo consenti o non me lo consenti che io mi converta al Dio o mi riconverta al Dio al Dio dei galvinisti, al Dio dei luterani, al Dio dei greco ortodossi, al Dio ebraico? Me lo consenti? Sei contento? Non sentiresti più odore di zolfo se mi convertissi per esempio al Dio degli ebrei? o non ti atrebbe bene neanche questo? Bombolone 101. Caro, rispondimi. Ti va bene se mi convertisci? Ma poi l'odore di zolfo? L'odore di zolfo? Cioè, l'inferno? È meglio che stavi zitto, zitto caro, perché poi alla fine mi sono stupato con questa faccenda dell'inferno perché qua siccome noi siamo qua in Italia e nel mondo cattolico non si fa altro a me pare anche nel mondo nel mondo protestante anche nel mondo greco ortodosso anche nel mondo islamico e tutti quelli che nascono sotto la sovranità di questi dei sono convinti che tutte le religioni abbiano un inferno e paradiso. Capito? E invece no, non è così. E io ho fatto degli studi approfonditi in questa faccenda e ho scoperto per esempio che il Dio degli ebrei il Padre il Dio Padre è migliore dei suoi figli. I suoi figli sono il Dio Cristo il Dio dei cristiani e il Dio Allah il Dio degli soli è migliore il Dio Padre il Dio Padre che è Yahweh perché non c'è l'inferno e non c'è neanche il paradiso. Capito? Non ha l'inferno e non ha neanche il paradiso perché il Dio ebraico Yahweh è un Dio concreto intelligente saggio non per niente è il Dio Padre e lui ovviamente ha detto ha pensato ma io ai miei fedeli l'inferno e il paradiso glielo faccio vedere davvero non è che devono aspettare l'aldilà che nessuno lo vede l'aldilà io glielo faccio vedere già nell'aldiqua l'inferno e il paradiso a chi segue a chi segue i miei comandamenti io il paradiso glielo do già su questa terra lo faccio diventare ricco prosperoso gli do una famiglia con dei figli bravi eccetera invece a chi si comporta male l'inferno glielo faccio conoscere già su questa terra cioè non lo faccio arricchire faccio in modo che la famiglia gli procuri dei dispiaceri è così che si fa è così che fa un Dio saggio te le fa vedere le cose non è che te le promette ma non si vedono mai non si vedono e il Dio degli ebrei non c'ha l'inferno non c'ha il paradiso mi ricordo che in piazza Massoni recentemente dovete fare un discorso di questo tipo sul fatto che il Dio degli ebrei non c'ha non c'ha l'aldilà non c'ha l'inferno e il paradiso e qualcuno mi obiettò ma allora che religione è una religione che non ti dà l'aldilà e allora io gli ho risposto ma è una cara signora ma magari ho detto vabbè l'aldilà è una cosa bella però bisogna vedere se si tratta di un aldilà in paradiso o un aldilà all'inferno allora lei cominciò a capire e io ho detto perché si può andare nell'aldilà si può andare anche all'inferno e l'inferno non è una cosetta da niente vuol dire stare in mezzo al fuoco per l'eternità per l'eternità lei capite bisogna vedere che tipo di aldilà ci dà il nostro Dio perché se si tratta del paradiso vabbè siamo tutti contenti avere la garanzia del paradiso ma se si tratta dell'inferno per l'eternità tra l'altro passa il purgatorio che dura qualche secolo in mezzo al fuoco che poi tra l'altro si può accucciare la dorata della permanenza in purgatorio facendo dire certe messe certe messe ogni messa cantata non lo so a brevia la durata nel purgatorio ma con l'inferno non c'è da fare mi risponde ma però Dio è misericordioso perdona perdona e vabbè perdona ma se uno muore in peccato mortale c'è scritto che si va all'inferno per esempio se io ho un incidente statale muoio sul colpo non faccio tempo a pentirmi dei miei peccati e secondo la dottrina cattolica dovrei andare all'inferno no? mi perdona anche in questo caso e scrivetelo e allora se Dio ci perdona tutti perché viene mantenuto l'inferno è uno spauracchio che non spaventa passeri se Dio ci perdona tutti perché è infinitamente misericordioso ma che ci sta a fare l'inferno allora ma abolitelo dalle preghiere perché c'è sempre nelle preghiere liberaci dalle fiamme dell'inferno c'è sempre esiste l'inferno mica è stato cancellato l'inferno dalla dottrina cattolica allora caro bombolone quindi per quello che riguarda la questione di Dio tu mi devi dire primo a quale Dio mi devo io riconvertire insomma di quale Dio devo diventare adoratore non mi dire che devo diventare adoratore soltanto del Dio cattolico perché ci sono tanti gli dei che tra l'altro provengono tutti da un'unica matrice che è il grande Dio padre Yahweh a quale Dio mi devo obbedire a quale Dio devo obbedire al Dio del Vaticano al Dio dei protestanti al Dio dei carvinisti al Dio dei greco-ortodossi al Dio degli islamici o al Dio ebraico dimmelo caro dimmelo fammi conoscere il tuo consiglio perché non credo che tu voglia voglia fare distinguere tra dei di serie A e dei di serie B non mi venire a dire che il Dio dei galvinisti è un Dio di serie B o che il Dio dei protestanti è un Dio di serie B o che il Dio dei greco-ortodossi è un Dio di serie B o che il Dio degli islamici è un Dio di serie B o che il Dio degli ebrei non mi direi questo a quale a quale mi devo convertire poi se proprio proprio io ricevesse un ordine dall'alto che mi dicesse oi seravino massone convertiti a una religione monotistica e beh mi converto subito alla religione di Dio almeno lo so che non vado all'inferno mi comporto bene secondo i comandamenti di Dio e sono felice su questa terra e l'aldilà 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 è bello bisogna vedere se sei stato del paradiso dell'inferno e tu me lo devi mettere su bianco che il Dio il Dio cattolico non manda nessuno 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 all'inferno me lo devi dichiarare per scritto firmando davanti al notaio poi io sono un corruttore di giovani perché parlo male non so parlo male della famiglia monogamica patriarcale tra l'altro parlo male parlo male della famiglia monogamica patriarcale ma perché e i predi cattolici che fanno che fanno mica la vogliono i predi cattolici la famiglia a parte il fatto che lo stesso Dio cristiano cattolico non c'ha moglie non è un buon esempio di famiglia nessuno di questi dei patriarcali è un buon esempio per quanto riguarda la famiglia ma se stiamo qua in casa nostra non mi pare che il Dio dei cattolici abbia una moglie e il rappresentante in terra del Dio dei cattolici Dio cristiano cattolico il rappresentante in terra mica c'ha moglie e tutti quanti i principi della chiesa non c'hanno mica moglie giù 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 anche i preti paroci mica c'hanno moglie benché l'ordine originario il comandamento originario quello che precede addirittura i dici comandamenti sia crescete e moltiplicatevi e mica l'ha detto Dio crescete e moltiplicatevi tranne i preti e le suore allora se i preti non tengono famiglia i preti cattolici tra l'altro non tengono famiglia e loro non danno il buon esempio che la famiglia è una bella cosa perché loro non la vogliono questa bella cosa sì sì dice ma i preti cattolici non hanno la normale famiglia perché la loro famiglia è la chiesa è Gesù è Maria e allora e gli altri preti i preti chiamateli pastori chiamateli come vi pare va bene io dico preti per comodità espressiva i preti calvinisti i preti protestanti i preti greco-ortodossi i preti islamici i preti ebrei che c'erano tutti famiglia che facciamo che so preti di serie B solo i preti cattolici sono preti di serie A mi vuoi dire questo che solo i preti cattolici sono dei veri preti gli altri sono dei preti di serie B caro mi vuoi dire questo e perché non si sposano ma perché non si sposano i preti e le sue ore e visto che dicono che la famiglia va ancora già dalla famiglia perché è una cosa bella eccetera e perché non cominciano loro a dare l'esempio sposandosi e in fin dei conti i preti e i preti della chiesa romana si sono sposati hanno vissuto un muore uxorio un concubinato per secoli 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 solo dopo il concilio di Trento che si è venuto a differenziare la chiesa cattolica dalle altre chiese riformate no? e però si è differenziata in una faccenda fondamentale come l'ordine crescente moltiplicatevi si poteva differenziare in qualcos'altro proprio questo è perché non cominciano i preti a fare la famiglia e soltanto facendosi la famiglia possono dire agli altri fatevi la famiglia così ubbidiamo tutti all'ordine divino crescete e moltiplicatevi ma perché nel mondo cattolico il crescete e moltiplicatevi deve valere soltanto per l'igreggio e non per i pastori solo per l'igreggio deve valere crescete e moltiplicatevi per i pastori crescete e moltiplicatevi l'ha detto per tutti il padre eterno è il comandamento originario un po' come la nostra carta costituzionale che è alla base di tutte le norme successive crescete e moltiplicatevi non la vogliono io nel mondo cattolico non vuole la famiglia la celebra ma per gli altri però la esalta ma per i greci i pastori non si sposano e non mi dire che i preti cattolici sono migliori di tutti gli altri preti beh andiamo su perché gli altri preti si offendono se tu mi vieni a dire che i preti cattolici sono migliori degli altri preti e gli altri preti si offendono si offendono i preti calvinisti i pastori chiamali come vuoi i pastori calvinisti i preti calvinisti i preti luterani i preti greco-ortodossi i preti islamici i preti ebrei non vorrei mica offendere tutta questa gente brava gente vero che si sposano hanno moglie e figli ora dov'è che io corrompo i giovani semmai la corruzione parte scusami dai tuoi preti che non si sposano non si sposano non si sposano non ne vogliono sapere del crescente moltiplicati moltiplicatevi poi vanno pure a dire che c'è il calo demografico in occidente e che l'occidente è stato schiacciato dalla marea islamica perché la marea islamica è potente sul piano demografico ma loro non fanno niente beh se qualcosa lo fanno si fa ma non si dice però sul piano anagrafico anagrafico cioè papà mamma tatà non fanno niente non fanno non fanno non contribuiscono ad incrementare demograficamente l'occidente che si trova in pericolo di fronte alla marea islamica che invece la marea islamica sembra che che umidisca bene all'ordine divino crescete e moltiplicatevi allora dov'è che sono corruttore di giovani perché dico che quando si sposano quando vi sposate giovani a pranzo di nozze portate pure gli avvocati pure per questo motivo perché dico che gli avvocati è meglio aver di vicino quando si ride quando si ride piuttosto che dopo quando si piange perché quando si ride tra l'altro gli avvocati costano anche di meno costano capito e perché dico queste cose e vabbè ma tu 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 non mi dai nessun conforto portandomi l'esempio forte dei preti cattolici sposati non so sposati e che esempio mi puoi portare i preti cattolici sono i primi a violare l'ordine primigenio della grande divinità riconosciuto anche nel mondo cattolico crescete e moltiplicatevi e perché preti e suore non si moltiplicano solo il grege si deve moltiplicare io sono un cattivo maestro sono un cattivo maestro caro e ai giovani io continuo a dirgli cari giovani se proprio proprio avete questo vizietto che vi volete sposare perché sapete l'amore riesce riesce che fa l'amore l'amore riesce a spaccare le montagne l'amore spacca le montagne l'amore e vi volete sposare ma seguite l'esempio di Serafino Massoni nel senso che Serafino Massoni vi dice che al pranzo di nozze portate gli avvocati uno per lo sposo o uno per la sposa oppure anche ne basta uno di avvocati e chi legga solennemente l'avvocato proprio mentre siete tutti felici e ci sono i canti legga solennemente i patti personalizzati che riguardano quello sposo lì e quella sposa là relativamente alla gestione dei figli qualora l'amore finisse relativamente alla gestione dei beni qualora l'amore finisse perché tante volte l'ho detto che gli scrittori delle belle fiabe le fiabe le hanno sempre interrotte laddove c'è scritto ed essi vissero felici e contenti andatele a dire agli avvocati matrimonialisti quante sono le storie che non finiscono in quella maniera lì andateglielo a chiedere ai magistrati o visitate i siti per verificare le statistiche delle violenze familiari violenze familiari che di solito sono perpetrate dagli uomini nei confronti delle donne ma anche dai genitori nei confronti dei figli perché Serafino Massoni sarà anche un corrodore di giovani in quanto dice che guarda strano che ne dice i comandamenti esiste il comandamento che ti dice onore al padre e alla madre ma non esiste il comandamento che ti dice che ti ordina e onore al figlio e alla figlia e andate a vedere le statistiche ma non le statistiche inventate da Serafino Massoni le statistiche giudiziarie sulle violenze perpetuate in famiglia perpetrate in famiglia e allora sono corrodore di giovani perché metto i giovani nelle condizioni di gestire meglio il proprio futuro avvocati gli avvocati meglio che tanto le spese sono già tante per una cerimonia annunziale già tante sono le spese e uno fatto 99 faccia 100 chiama pure gli avvocati gli avvocati che leggano poi durante proprio durante il pranzo mentre ci sono i canti c'è tanta gioia che leggono le condizioni specifiche per quella specifica coppia perché le condizioni matrimoniali che sia matrimonio religioso o matrimonio civile sono molto generiche e poi ogni coppia ogni coppia è un mondo a sé un mondo a sé che si cerchino di fare delle previsioni qualora l'amore scomparisse così come neve al sole due si ritrovano che prima si amavano la follia e dopo qualche anno si odiano la follia non si riesce a capire perché come le conoscono bene queste cose gli avvocati divorzisti e i magistrati come le conoscono bene quello che succede nelle aurei tribunali che dopo un breve periodo di amore e la follia subentra un lunghissimo periodo di odio e la follia dove i figli vengono utilizzati come merce di ricatto va bene e va bene si dice che l'amore che spacca le montagne si si portatevi allora caro amico per questo soccorrono dei giovani vabbè quando i predi si sposeranno si sposeranno pure loro i predi cattolici e le suore cattoliche si sposeranno pure loro faranno anche loro i figli ubbidiranno l'ordine divino crescete e moltiplicatevi allora Serafino Massoni cambierà musica poi caro per quanto riguarda l'ordine zolfo e l'inferno caro amico il Dio Jové non c'era l'inferno non c'era l'inferno in paradiso ma chi se ne frega se l'aldilà se l'aldilà consiste nell'inferno per l'eternità tu mettimelo fai la bella certificazione scritta davanti al notaio e dimmi Serafino Massoni stai tranquillo che Dio perdona tutti e perdona pure te tu non ci andrai all'inferno e allora dirà accidenti se me lo garantisce questo bravo blogger questo Dio il Dio cristiano cattolico non mi manda all'inferno allora quasi quasi ci ritorno da questo Dio ma chiaro io non so che farmeli di un Dio che c'ha paradiso e inferno che me ne faccio io ma che Dio è un Dio cattivo questo qua e mica glielo ho detto io a Dio di mettermi al mondo scusami sai lui mi ha messo al mondo di sua iniziativa io non gli ho chiesto niente mica gli ho chiesto niente lui per conto mio Dio se ne poteva stare al posto suo per l'eternità cosa è venuto a mettere al mondo me e tutti gli altri ma perché e poi pure all'inferno è proprio vero che manca il comandamento onora il figlio o la figlia perché noi siamo tutti figli di Dio no tutti figli di Dio però nei dieci comandamenti manca il comandamento onora il figlio o la figlia e che me ne faccio di questo papà così cattivo che se mi comporto diversamente dalle sue aspettative non è che mi punisce mi punisce per dieci quindici vent'anni mi punisce nel fuoco nel fuoco eterno fuoco è che questo è l'aldilà non so che farne di questo aldilà va bene cari amici vabbè corruttori di giovani vabbè ma che cominciano i preti cattolici le suole cattoliche a sposarsi ci facciano vedere loro ma ci diranno l'esempio si dice così no ci vuole l'esempio ci vuole ma l'esempio non viene sono tutti single chissà perché sono tutti single oh quanti video che ho fatto nel passato che poi mi sono spariti mi sono spariti dove dicevo che la carriera ecclesiastica cattolica si dovrebbe basare sul numero di figli cioè uno dovrebbe salire nella graduatoria ecclesiastica che sono c'è il curato c'è il parroco c'è il monsignore c'è il vescovo c'è il cardinale poi c'è il papa uno dovrebbe salire sulla base del numero di figli proprio perché il primo ordine è stato e crescete moltiplicatevi cioè dovrebbero fare papa uno che ha più figli di tutti gli altri in coerenza in coerenza all'ordine divino crescete moltiplicatevi quello sì che sarebbe un buon esempio nei confronti dei giovani va bene cari amici dai la voglio finire qua anche perché adesso contrariamente alla norma sono appena tornato da piazza Massoni ma c'ho così voglia di ritornarci che appena ho chiuso questo video ci è arrivato subito in piazza Massoni a fumarmi un'altra sigaretta a bermi un bel caffè con tutti gli amici di piazza Massoni ma quanti sono gli amici di piazza Massoni va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti